Chi avrà il veicolo migliore questo oggi? Io, ovviamente, Steph, non lo devi neanche chiedere Stai calma con quel canale, eh Vincerò a mani basse, Steph Non lo so, Fede Non te neanche impegnarmi, guarda È una sfida davvero difficile, perché tu magari sarei un po' più corazzata Ma io ho tanti missili in più di te Vedremo, vedremo Secondo me ti devi preoccupare un po' E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E sono Steph, e questo è come GTA V Benvenuti in un nuovissimo episodio di GTA V In cui faremo una sfida Perché sfideremo e metteremo a confronto il rino e l'apc Esattamente, ma chiamiamolo cararmato, Fede, che il rino a me sembra poi ringo Non lo so, mi viene fame Rino il cararmattino Secondo me sta per iniziare a piovere, Fede Lo sai? Ti devo dire, Steph No, perché la pioggia Guarda Ecco qua, hai portato sfiga Non è sfiga La pioggia simboleggia la guerra Cioè, tutte le volte che tu guardi un film di guerra Inizia a piovere nella guerra più importante Se lo dici tu, ok Per questo motivo è iniziata a piovere Perché quest'oggi vedremo appunto chi è il cararmato più forte Però, devo impostare un pochettino il video, Fede Perché non è così facile dire qual è il più forte Ho scritto 5 parametri che andremo a vedere E infatti ci saranno in questo video 5 sondaggi A cui i consolini potranno rispondere Per appunto decidere qual è il veicolo migliore Velocità, estetica, forza di impatto, potenza di fuoco e resistenza Partiamo dalla velocità perché secondo me è la cosa che più è facile da controllare Partiamo insieme, vediamo chi arriva prima alla fine E è facilissimo Ci dobbiamo mettere bene Non dobbiamo imbrogliare Ok, ok, a posto Fede Scusa, volevo solo girarmi a vedere se eri giusto No, non l'ho fatto apposta Lo sapevo Lo sapevo che voleva farlo No, aspetta, non lo devo rifare Allora Non ti posso guardare Vai via Io adesso qua Non è colpa mia Ti ho lasciato una mina Dai, Steph Così impari 3, 2, 1, via Ok, per ora sono decisamente più veloce Penso anche per dopo Ti sto seminando Ti sto chiaramente seminando Non ti faccio esplodere Ok Solo perché puoi una rottura di scatola riprendere il veicolo Solo per quello, Steph Perché l'avrei già fatto 20 minuti fa Ancora prima di iniziare il video L'avrei già fatto Infatti, sono abbastanza sicuro per questo motivo Sulla velocità direi che è abbastanza oggettiva la cosa La PC sembra più o meno che vada al doppio della velocità E quindi va bene E a questo punto Cambiamo pista, Steph Vieni qua Perché? Perché lì c'è la mina e non si sa mai Ah, già, sì In effetti è meglio non rischiare Ok, Fede Questa volta Invece passiamo da una cosa totalmente oggettiva Da una cosa totalmente soggettiva Ovvero l'estetica Quale dei due è più bello esteticamente? Devo rispondere? Sì Non lo so Allora, c'è da dire Che anche se questo andrà in mio sfavore Che comunque il tuo veicolo No, allora Non è una sfida tra me e te Ognuno di noi sta utilizzando un veicolo Però alla fine la sfida è tra i veicoli Quindi non devi prenderla troppo sul personale, Fede Lo so Allora, volevo dire quindi Che il tuo veicolo è personalizzabile Quindi ha un punto in più Sotto questo punto di vista Però c'è da dire che il carro armato È una delle forme più belle in tutti i veicoli esistenti sul pianeta Terra Anche secondo me Quindi è un altro punto Perché allora il tuo sì è carino Ma guarda che eleganza È forza di guerra al mio Allora, se io restassi soltanto a guardare i missili Ok, quindi da dove sparo i missili con la PC Secondo me è più figo Il problema è che poi la forma anche a me non fa impazzire Quindi diciamo Che cosa sembra? Lo posso dire? Che cosa sembra? Il tuo veicolo C'ho pensato adesso ma non so se si può dire su YouTube Non lo so, Fede Una supposta Una supposta? Ma a me sembra più una barchetta Tipo Non so dove ci vediamo Allora Vai a comprare delle supposte Non ci vada a comprarle Fede Per favore torna serio Che qua stiamo facendo un confronto Fede Fede Torna serio Ok Per favore Ok Ripigliati Stavo dicendo Per valutare Quindi per votare il sondaggio Pensate proprio a questa cosa Quindi uno è personizzabile E prende quel vantaggio Ha i missili fighi Mentre l'altro ha la forma decisamente migliore Quindi votate quelle dei due Secondo voi migliore E poi vedremo appunto quale vincerà Ok A questo punto andiamo alla terza cosa Fede Ok Questa è molto divertente Ed è la forza d'impatto La forza d'impatto non è la forza nel sparare Ma è proprio la forza nel colpire gli altri veicoli Cioè quando tu vai dritta per strada Quanto sei potente Ok vediamo prima la tua forza d'impatto Fede Allora quindi mi devo schiantare Colpisci tutti i veicoli di proposito E continua ad andare dritta per la tua strada Allora in questo caso direi che questo veicolo In nessun modo è riuscito a bloccarti Quindi comunque No vabbè ovviamente Fede ma per favore Ma ti dico vai dritta in una strada E tu arrivi Aspetta È il tuo momento Fede Facci vedere quanto è la forza d'impatto di un carro armato Ma io li ho fatti già esplodere Stef Non l'ho fatto apposta No no vabbè devi Cioè devi proprio dimostrare quanto sei potente Ecco qua dove vanno le macchine Esatto Esatto Brava Ok Ecco qua Allora Sulle macchine non abbiamo dubbi Rieci di tu a farle esplodere I furgoncini te li porti appresso Come se nulla fosse E nel momento riesci anche a far esplodere altre macchine Quindi la tua forza d'impatto Secondo me È seconda soltanto al Phantom Wedge Perché il Phantom Wedge Sì poi guarda Anche l'ultimo furgoncino l'ho fatto esplodere Addirittura Quindi se ti metti bene li guarda Ok Può esplodere tutti Ok adesso fermati Perché altrimenti Sì aspetta aspetta Ecco è arrivata la polizia Eh lo sapevo Eh lo sapevo Per di più sei pure per esplodere Ti toccherà pure cambiartelo Questo E allora mi prendo un attimino di No no Fer Per favore Chiama Lester Smetti di distruggere tutto Quattro stelline Quattro stelline Sono messa malissimo Ora tocca a me Ovviamente Fer Ha perso il cararmatto Perché mi è tutto distrutto Quindi noi dobbiamo chiamare un altro Vediamo un pochettino come se la cava la PC Allora contro le macchine Io non le faccio esplodere Però le uso come rampa Vale lo stesso No è buono Più o meno È positivo Cioè fa un po' ridere Allora qui però si sta valutando la forza di distruzione Non di rampizzare Sì effettivamente Sai perché succede? Perché sono uno stuntman proprio super professionista E quindi riesco a fare gli stunt anche sulle auto Sicuramente per quello Sì 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 Allora c'è da dire che comunque le macchine non ostacolano il tuo percorso Quindi puoi andare dritto tranquillo Però è più bello vederle esplodere Guarda con il furgoncino Vedi che mi rallenta Sì 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 Mentre invece a me non creava problemi Allora votate nel sondaggio Ma secondo me questa sarà vincere il cararmato normale E adesso c'è una parte molto divertente Ok Dobbiamo valutare la potenza distruttiva Sparando Ok quindi Quanto sono forti sparando Allora io per questa cosa direi di fare così Tu ti metti nel posto per sparare col mio veicolo Perché altrimenti io posso stare soltanto fermo Lo sai che questo qua è un problema che ha la PC Io chiamo Lester per farci dare tre minuti con la polizia In cui non ci calcolano E ci scateniamo Dopodiché facciamo la stessa cosa col cararmato E vediamo È sbagliato posto E vediamo quale delle due È più distruttiva Spara a raffica Ma proprio velocissima Perché questo Allora c'è da dire che però Steph Io questo non lo dovrei fare Perché tu non puoi sparare e guidare Quindi io ti sto dando una mano Anche se comunque non resisto dai Tre minuti di libertà Eh scusami eh Allora Io lo so che ok Quando lo guidi da sola Si è obbligato a star fermo Eccetera eccetera Però con questa raffica di colpi Però aspetta Dimmi Hai dei missili limitati tu? Eh sì Mentre invece il cararmato mi pare che non li abbia Esatto Vedi altro punto A tuo sfavore Eh però guarda quanto Perché hai un potere di distruzione Comunque limitato Però il cararmato Spara lento Non è vero dai Non è così lento Ma adesso Non trovare il pelo nell'uovo Solo per tirare acqua Al tuo mulino Guarda Sparami questi Guarda che Guarda quanto è potente Ferry Scusami eh Cioè guarda con che potenza Non metto in dubbio Che non sia potente Dico che è limitato Stef Tu ragiona Vai oltre Ok Smetti di sparare Perché tutto questo terremoto No scusa Mi hai detto tre minuti Stef Vabbè Allora io parlo nel mentre Dicevo Tu devi fare la guerra Ad altri player Ok Perché ammazzare i civili Ne ammazzia anche con la pistola Quando devi sfidare Un player Lui si muove tanto È difficile da colpire Quindi poter sparare così In fretta Ferry Però tu devi stare fermo Quindi sei colpibile Vabbè ma puoi giocare In due in un veicolo No Ti chiami il tuo amico Prendi e spari tutto Nessuno gioca con te Stef Pensa che tu sei solo Quindi Quello è abbastanza vero Vito Vito È il mio momento Stef Vai Ferry Ma non hai chiamato Lester Vabbè Scusa È vero Cavolo vabbè dai È già una stella Vabbè Vabbè pazienza Pazienza Così poi ne dovrai chiamare l'altro A meno fa porre Non è che la polizia Stef È per quello Io nel mentre elenco I pregi e i difetti Spara un pochino più lento Leggermente È chiaro come il sole Che spara un po' più lento Guarda Sto già sparando Uno e sparo subito l'altro Guarda Già un altro colpo Un secondo e mezzo Anche un po' di più Quindi Un po' c'è questo difetto Però D'altro canto È infinito Quindi Se il carro armato Lo dovete utilizzare Per uno scontro A lungo termine C'è da dire Che appunto Può sparare più colpi E quindi fa molto comodo Sai che cosa dobbiamo fare adesso Vero? Ucciderci a vicenda Esattamente Sei pronta? Allora ma come facciamoli? Tiriamo in simultanea Il primo che esplode perde O cosa vuoi fare Stef? Beh sì Non la giocheri sullo schivare Perché altrimenti Va ad esserci anche Capito? La bravura dei player Invece vogliamo soltanto vedere Qual è il veicolo più forte Che è più resistente Esatto Sei pronta? Sì Tre Devi sparare a raffica Ok Tre Due Uno Via Ok Finita così Sì Proprio tristissima Sono durata davvero poco Allora c'è da dire Che io sono tanto danneggiata E tanto Dici? Sì perché sta facendo Un bibbibibibibibi Ma dici che con una sola granata Ti faccio esplodere? Prova Sì Sì, 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 sì Quindi forse io addirittura ti ho mancato un pochino col primo colpo Dici? E non ho capito bene Sì, 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 sarei curioso Perché io sono più resistente di un colpo Di una sfida mentre, capito, io sto in due sul veicolo e corro in giro Però comunque devo dire che è sembrato un po' più forte il carro armato Così uno contro uno alla pari mi è sembrato più forte Adesso fareci un'ultima cosa Che diciamo è un po' l'avvocato del diavolo Dove entrambi possiamo dire qualcosa in più a vantaggio del proprio veicolo Ma come quando, capito, sei Miss Italia Devi dire vorrei la pace nel mondo e devi convincere tutto il pubblico Brava, 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 esattamente Parto io? Vai Allora, secondo me dobbiamo valutare diverse cose Prima di tutto l'APC è uno di quei veicoli che ti permette di giocare con i tuoi amici Perché comunque cosa te ne fai di un carro armato dove sei da solo Quando invece puoi avere un veicolo che ti permette di sparare in compagnia Quindi secondo me è già una cosa importante Numero due lo possiamo sistemare a livello estetico Numero tre, Fede, c'è un'altra cosa importante che non abbiamo fatto vedere L'APC ha le mine Io posso mettere delle mine dietro di me Quindi se un player dietro di me che cerca di colpirmi Mentre io appunto dietro non lo posso colpire Posso mettere una mina e fregarlo Questa è un'ottima cosa, Fede Tu cosa mi vuoi dire? Vediamo se sai le caratteristiche che dovresti dire Perché ce ne sono Allora, io le so Allora, prima di tutto ti permette di giocare da solo Dato che ti ho parlato degli amici Perché al giorno d'oggi chi è che ha bisogno degli amici? Vabbè Meglio giocare Metti che sei una persona che non ha amici E tu stai escludendo questo Ok Perché ad esempio non puoi escluderli, Steph E puoi giocare da solo a far esplodere tutti Che è molto divertente Quindi uno a uno Uno con amici Uno da soli E va bene Poi Uno non gli vanno da con Noi vanno bene amici Ok Poi puoi far esplodere tutto Ok Sei più resistente di Steph Ok E questo vince, basta Fede, sei scarsissima Avresti dovuto dire che costi di meno Ah, costo di meno Costo di meno Avresti dovuto dire che comunque puoi usare anche la canna del carro armato per sbalzare i veicoli E quello è molto divertente Puoi sbalzare gli amici che non vuoi Esatto Quello è molto divertente Quindi anche questo l'avresti dovuto dire Però, d'altro canto, io posso dire che il mio veicolo è mio Tu devi chiamare una persona che te lo porta E lo puoi andare a ritirare E sono tutti i posti E cos'è un problema? È perché è grande Dove te lo metti? Il tuo cistero è in un garage Il mio ovviamente no È enorme È una brutta cosa Perché comunque Secondo me no Non è così tanto un fastidio Come tu lo descrivi Bisogna sempre farsi un viaggetto Andare in posti scomodi Secondo me Anche quello è bruttino In ogni caso Avete tutte le carte in tavola Per poter votare Consolini Votate tutti e cinque i sondaggi Vedremo appunto Con credo La somma di tutti i voti Quale sarà il migliore Credo che faremo una roba del genere E vedremo chi avrà vinto appunto Tra APC e Carlo Armato Ragazzi Lasciateci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare il link Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 ciao